Raga adesso io faccio la recensione di Never Let Go e sono stato l'anteprima stampa di Never Let Go, il nuovo film di Alexandre Aja, regista che ha già messo a segno qualche buon film, con una predilezione per l'horror, abbiamo già parlato di lui con Crawl, un altro film che vi ho consigliato Oxygen eccetera. Questo film arriva secondo me anche un po' così silenziosamente sul mercato perché non ha bambole, assassine, esorcismi, cose, però è un vero e proprio film horror al 100%. Conta la storia di questa casa, di questa famiglia di cui Alberi è la madre e i due bambini appunto rinchiusi, che vivono in questa casa, in questa casa claustrofobica da un certo punto di vista perché scopriamo sin da subito che loro non possono uscire e andare diciamo fuori da questa casa ma neanche da 5 metri senza avere al torno alla vita legata a una grossa corda. Quindi quando andranno in giro per cercare del cibo dovranno sempre andare tutti e tre con una corda legata in vita che è una corda legata alla casa. Ovviamente ci sarà qualcuno che vorrà provare a slacciare la corda e andare senza ma la madre appunto, la madre di questi due bambini molto protettiva li esorterà sempre di più a non farlo mai perché appunto fuori nel bosco, in questa foresta inquietante, una foresta delle fiabe ma anche delle fiabe horror. C'è una bella foresta ma una foresta anche molto lugubre, molto strana, ha un'aria molto da foresta tipo foresta dei suicidi, una foresta bella ma anche inquietante. E in questa foresta c'è il male e senza la corda legata in vita il male se ti tocca ti trasforma in un essere orribile che uccide e fa pezzi insomma gli altri esseri umani. Questo è quello che la madre ha raccontato ai suoi figli, li ha cresciuti così e ha creato tutti dei rituali per sopravvivere, per cercare di mantenere queste regole. Ecco la prima cosa che vi voglio dire è che questo film è interessante prima di tutto, è un film horror classico ma è molto interessante. A cominciare dal fatto che queste corde, questa immagine delle corde è bellissima perché è palesemente la rappresentazione fisica del cordone umbilicale che è legato appunto alla madre ma alla casa come rappresentazione della madre. Quindi loro quando vanno in giro hanno questo filo che li tiene insieme come famiglia che è proprio la corda. Quindi è molto simbolico, cioè come il male non ti può toccare finché rimani legato al tuo nucleo familiare. Quindi finché rimani col focus, finché sei protetto in una situazione di alleanza familiare, no? Quindi finché sei sotto la cura e la protezione della tua famiglia, della tua casa, dei tuoi genitori, in questo caso di tua madre. Questa è la storia. Poi chiaramente vedremo delle sfumature di questo personaggio di Alberri, che non cerco di accennarvene solo un pezzettino per farvi capire. Vedremo che questo personaggio ha un comportamento che ci farà pensare che lei è, diciamo, una persona che ha dei problemi mentali. Quindi inizieremo a vivere tutto questo film nel dubbio e per questa ragione questo film è molto divertente, secondo me. È molto divertente vivere appunto questa incertezza per tutto il film, cercando di capire cose, cercando di mettere insieme i pezzi di una storia che vive sul filo del rasoio tra una visione allucinatoria del mondo e una visione soprannaturale. Quindi una visione dettata magari dalla follia oppure dal soprannaturale. Tutto gestito a livello di sceneggiatura, secondo me, molto bene, perché il film intrattiene, nonostante i personaggi siano tre. Loro sono molto bravi. Io purtroppo l'ho visto in lingua italiana, quindi doppiato, e questo mi è dispiaciuto molto perché l'ho trovato un film intenso, d'atmosfera, fatto molto bene. Ci tengo a dirvi direttore della fotografia che è Maxime Alexander, che è già il direttore della fotografia di Oxygen, di Crawl e di tanti altri film horror. Quindi diciamo c'è una predisposizione a questo tipo di film, di atmosfere. E poi insieme a lui, molto bravo, secondo me anche il compositore che ha curato la colonna sonora, che è Rubin Kudert. Anche lui con esperienze cinematografiche, appunto come compositore della colonna sonora, di Revenge, il remake di Maniac, Great Eleance, Oxygen. Anche lui già collega, diciamo nel team dei precedenti film di Alexandria, quindi un team molto affiatato. Ecco, non ho potuto vederlo in lingua originale, devo ammettere che questo è un film che penso riguarderò volentieri più avanti, quando ci sarà la possibilità per me di farlo in lingua originale, perché secondo me Alberry è una brava attrice, e Alberry, scusate, Alberry è una brava attrice e voglio vedere anche come, un po' sentire anche la voce, il tono di questi due ragazzini giovani, vedere come recitano e comunque tendenzialmente l'impressione che ho avuto è un'ottima performance. In più, diciamo, questo nucleo familiare soffre parecchio la fame, perché si trovano comunque in un luogo infestato dal male, come dice appunto la madre, quindi faticano a trovare cibo e lei effettivamente dimagrisce molto per questo film, a un punto tale che la cosa mi ha dato visivamente anche un po' noia. Ho provato un senso di dispiacere nel vederla così secca, così magra, chiaramente aumentato col make-up e tutto quanto, mentre i bambini sono stati comunque un po' ammalati col make-up, ma non potevano certo metterli a stecchetto, perché sarebbe disumano e magari contro diverse leggi e regolamenti, quindi comunque devo dire che hanno reso molto bene, cosa che spesso nel cinema non accade, il senso di fame, di privazione del cibo, spesso vediamo film dove la gente è priva di cibo e rimane bella paffutella, erosia, non ha nessun tipo di problema, quindi qui l'hanno reso molto bene e l'hanno reso anche un fattore determinante a creare ansia, a creare angoscia, quel famoso timer che in tanti horror c'è, cioè in questo caso è un timer del cibo, dell'assenza di cibo, quindi l'ho trovato veramente un film interessante da questo punto di vista. Mi piacerebbe parlare con voi del... dopo che l'avete visto perché... insomma fare una recensione spoiler, perché è un film che io ritengo molto interessante e è uno di quei film che ho paura, anzi sono abbastanza certo che il pubblico non comprenderà. Come Speak No Evil non sono proprio per niente lo stesso genere, anzi proprio questo Never Let Go è un film proprio classico horror, ma c'è un gioco, un gioco fatto dagli autori di questa storia, molto interessante, psicologico, che non dà allo spettatore tutto quello che lo spettatore si aspetta canonicamente o diciamo tutto ciò che è consueto nel cinema horror, un po' così più superficiale e lascia aperte tante cose che però sono molto interessanti secondo me. Il film è al cinema dal 27 settembre con Notorious Cinema, quindi andate a vedere il film. Per me è un film che vi consiglio tranquillamente, soprattutto ai maniaci dell'horror, agli amanti dell'horror, degli horror un po' anche alla Shyamalan. Se avete visto il film lasciate un commento e insomma mettete like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Grazie a tutti, ciao! Grazie a tutti!